Come società che si occupa di valutazione e selezione di figure executive promuoviamo una cultura della leadership che prescinda dal genere e in particolare vogliamo focalizzarci sulle caratteristiche realmente distintive a maggiore impatto della figura del leader del ruolo del leader il nostro obiettivo è la ridefinizione del modello di leadership in un'ottica di sostenibilità è proprio per questo motivo che abbiamo sviluppato un modello di allenamento a tre livelli mentale fisico e manageriale è un sistema di allenamento che va a coltivare le capacità distintive della leadership sostenibile uno la mente cerchiamo di far capire come funziona il nostro cervello per fare in modo che lui possa cogliere i segnali corretti dall'esterno e produrre i giusti stimoli da un punto di vista fisico aumentiamo la consapevolezza del proprio corpo per renderlo più forte ma in particolare per permettergli di sviluppare tutte le proprie potenzialità per portarlo al proprio massimo da un punto di vista manageriale invece che cosa facciamo aumentiamo la consapevolezza delle nostre routine abitudini manageriali non solo per comprenderne ma anche per andarle a modificare nella maniera più sostenibile la leadership femminile quindi come la leadership in generale è un equilibrio dinamico e non può basarsi solo sui modelli che abbiamo acquisito durante il nostro percorso esperienziale ma deve essere coltivata e allenata in alcuni aspetti specifici in particolare deve imparare a bilanciare e controllare gli aspetti contenuti nell'essenza umana del leader ofici 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 o or